E questi applausi sono già per Giancarlo Nisi e per Gli Epoca! Grazie, grazie. Che bello ritrovarvi in tante puntate come ospiti, poi voi siete ospiti da sempre qua e anche in questa nuova versione con Gli Epoca che è molto importante, grandi successi anche con Gli Epoca. È stato un piacere, io farei un applauso a questa padrona di casa eccezionale, bellissima. Grazie, supportata da Federico e da tanti, anche l'altro conduttore, quindi tutti siamo qua. Complimenti al programma, è veramente bello. Grazie, grazie, ci fa sempre piacere. E allora, raccontaci, stasera ci fai ascoltare un brano proprio famosissimo. Mantra Pietra Migliare della Beat Generation, perché non tutti i gruppi in quel tempo erano inglesi o americani, maggiormente erano inglesi. C'era anche esponenti della Beat Generation spagnoli. Infatti questo brano, il gruppo originale, sono i Los Bravos, poi è stata fatta da diversi artisti. E abbiamo fatto anche noi una versione, sempre con l'enargiamento di questi ragazzetti qui. Ragazzetti per modo di dire. Beh, c'è un bellissimo affiatamento tra di voi, sono contenta di vedervi così energetici. Allora, il titolo, il titolo. Il titolo, se non sbaglio, è Black is Black. Black is Black, esatto. Sì, proprio come lui e come te. Sì, sì, sì. Ok, allora, Black is Black di Giancarlo Nisi e gli Epoca. Grazie. Black is Black. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione